A presto! Mancina, Mandelli, e il gol! E' la palla che non entra. Qui un po' di sfortuna, ma ora sbagliano! Belletri, Bobbi, e la seconda espulsione, 2 contro 0, e allora Florenzia, vediamo, riuscirà Ciriezzi. Attenzione intanto, attenzione, c'è un attimo, attenzione, ancora, la Florenzia va fuori, la nuova, in testa contro il Napoli, 6 a 7, scusate, scappa a gestire il Napoli, e la rete, la rete, questa stessa espulsione che fa la possibilità della numerica, si viene, e la rete, ha mancato la palla, e ora siamo 2 contro 1 della Florenzia, e questo è un bel regalo, è Belletri, con l'uomo in più, rimanete in questa situazione, ha messo nel gol, cerca di rendere meno pesante.